I promessi sposi sono il primo romanzo della letteratura italiana, un lavoro di ben 21 anni che servì appunto a Manzoni per terminare il suo capolavoro e che avrebbe in qualche modo cambiato per sempre la nostra storia della letteratura infatti questo romanzo non è solo un'opera nata per il diletto, la sua importanza attraversa diversi piani Manzoni infatti cercava di andare incontro a un pubblico ampio che mostrasse interesse a comprendere le radici del proprio passato e a trarne un insegnamento morale in particolare riguardo al problema del dolore nella propria esistenza inoltre così come la televisione negli anni 50 e 60 contribuì alla creazione di un italiano unitario i promessi sposi fecero altrettanto nell'ottocento fecero cultura a tutti i livelli adattandosi ai diversi piani di lettura da subito infatti questo romanzo venne introdotto nelle scuole e resiste da generazioni e sicuramente un motivo ci sarà è un romanzo storico ma che cos'è questo romanzo storico? il romanzo storico è un tipo particolare di romanzo in cui l'ambientazione storica ha un valore documentaristico cosa significa? intende trasmettere lo spirito, i comportamenti, le condizioni sociali attraverso l'accurata indagine di dettagli realistici e che con un'aderenza fittizia o meno ai fatti storici può contenere personaggi realmente esistiti oppure una mescolanza tra personaggi storici e di invenzione nacque nel periodo del romanticismo perché era forte l'attrazione verso il passato in particolare verso la propria nazione in quanto era interprete la storia, il passato ed era in qualche modo radice del presente inoltre permetteva di evadere il romanzo con la fantasia le radici di questo genere come romanzo appunto storico si trovano da Livanoe e di Walter Scott ma Manzoni a differenza di Walter Scott che agiva appunto talvolta con libertà e fantasia sulla ricostruzione storica per piegarla alla piacevolezza della narrazione cerca Manzoni invece nel suo unico romanzo una tesi un argomento partendo da un'accuratissima ricostruzione in altre parole la storia è utilizzata con funzione dimostrativa dall'ottocento in poi il romanzo storico fu un genere molto adoperato anche nelle ultime lettere di Jacopo Ortis del poscolo del 1817 mostrano il problema della storia e di come essa si intrecci nelle vicende personali del protagonista negli anni successivi a Manzoni il suo romanzo come ogni altra opera fu ripreso e sconfessato più volte un cambiamento importante si ebbe con il romanzo Cento anni di Giuseppe Rovoni e con il romanzo Le confessioni di un italiano di Polito Nievo entrambi questi due attori tornano a filtrare la vicenda storica attraverso l'io narrante mettendo in rilievo la micro storia rispetto alla macro storia La Poetica del Vero Approfondiamo questa tematica Che cosa intende Manzoni per la poetica del Vero? La letteratura appunto secondo Manzoni si deve ispirare al Vero cioè la storia è ciò che è stato questo perché i fatti realmente accaduti hanno una forza drammatica che nessuna invenzione la può eguagliare inoltre costringendo a concentrare l'azione nel breve arco di una giornata costringe anche ad esagerare le passioni che hanno condotto a quelle azioni quindi per Manzoni nasce il romanzesco ossia il falso l'artificioso a suo avviso i personaggi devono essere rappresentati in un legame inscindibile in un particolare momento della storia e in un particolare ambiente quindi nella Poetica del Vero il Manzoni privilegia i soggetti tratti dalla storia e ne riproduce fedelmente i caratteri drammatici di questi eventi quindi l'unica invenzione del poeta è cercare di ricostruire i movimenti psicologici dei fatti i pensieri, i sentimenti che hanno accompagnato gli animi dei personaggi di cui la storia non conserva documenti e quindi l'unica invenzione del poeta